Buongiorno, signor Labuf. Buongiorno, Tiana. Congratulazioni per essere stato eletto re del martedì grasso. Cosa che mi ha volto completamente di sorpresa. Per il quinto anno consecutivo? Allora, sarebbe bello festeggiare con... Appena sfornati, aspettavano voi. Continuo a portarmeli finché non sto... Per il quinto anno. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti